Una dozzina di militanti e dirigenti di Fratelli d'Italia hanno fatto un presidio al Consolato brasiliano di Milano per chiedere che l'ex militante dei PAC, Cesare Battisti, torni in Italia per scontare la pena per i quattro omicidi per i quali è stato condannato dalla giustizia del nostro paese. L'ex ministro della difesa, Ignazzo Lerossa. Vogliamo l'estradizione del terrorista assassino Battisti. Non desistiamo. Siamo stati i primi, sin dall'inizio, a chiedere l'estradizione quando ancora era in Francia. L'allora parlamentare europeo, Romano Larussa, con Giorgia Meloni, che era la capa dei giovani nazionali, andò a incatenarsi davanti al municipio di Parigi e non ottenemmo nulla perché i nostri governi non si sono mai prodigati. È scappato da allora a oggi grazie alla lobby che protegge i terroristi di sinistra in tutto il mondo. Noi non desistiamo finché non avrà pagato almeno un certo periodo di tempo in carcere continueremo a chiedere che Battisti sconti una pena.